Bella regà, volevo iniziare insieme al mio compare Valerio Caetani questa avventura dei video e di raccontare le cose che ci passano in testa, in qualsiasi momento ci vengano. Allora, per il video numero zero della serie Ma che paese è questo? Io sono live sulla Cassia Abissa in direzione Viterbo, vengo da raccordo e come voi sapete stanno più buche che asfalto, poche parole, e non so chi di voi ha notato che nel tratto del viadotto dal raccordo alla galleria, diciamo così, andando verso casa nostra, direzione Viterbo, sul lato di marcia, quello normale, non quello di sorpasso, ci stanno delle cazzo di buche gigantesche, cioè, ma proprio delle buche gigantesche. Allora, in un paese normale, sai, quelle buche, voglio dire tanto, dopo una settimana che ci stanno, verrebbero coperte. Da noi no, da noi no. Da noi queste buche, a parte che vengono lasciate per mesi così, ma poi dopo non è che le aggiustano, cioè, ci fanno, non so chi di voi l'ha notato, le rampe d'accesso, porco Dio. Ci fanno le rampe d'accesso, scusate, ho passato lo stereo, le cazzo di rampe d'accesso, cioè, non è che coprono la buca, ci fanno la discesina quando inizia la buca e la salitina quando finisce, così addolcisce il tuo percorrere. La cazzo è a vista mentre te ne torni a casa, allegramente. Ma, ditemi voi se questo è normale, cazzo, porca troia. Te vale, che dici? Attendo la tua risposta. Bella.